Buongiorno, quest'oggi parliamo di carceri perché Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, è tornato sul problema carcerario proponendo misure di depenalizzazione, di misure alternative al carcere e soprattutto la possibilità da parte del Parlamento di adottare leggi di amnistia e indulto. La situazione delle carceri italiane è molto grave, c'è una situazione di sovraffollamento con problemi igienici, sanitari e ovviamente anche di rieducazione di chi entra in una struttura carceraria, strutture carcerarie che spesso sono avere proprio a scuola professionale per diventare delinquenti. Immaginiamo il giovane che sbagliando commette un reato e entra per la prima volta in carcere e incontra delinquenti professionisti con cui condivide la cella, dove c'è una situazione di malessere sociale, di sovraffollamento, di difficoltà di comunicazione di recupero e matura diventando un vero e proprio criminale professionista anche egli. Quindi mantenere le carceri in uno stato civile e accettabile non è solo una questione giuridica e di civiltà, ma è una questione anche di prevenzione di tipo criminale. Siamo stati condannati dalle istituzioni europee più volte, compresa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ci ha condannato per decine di volte come paese che sottopone i propri detenuti a trattamenti inumani e degradanti, con un aggravante che un terzo dei detenuti è in attesa di giudizio, quindi ancora non è stato giudicato colpevole in maniera definitiva, quindi con una sospensione in un certo qual modo di diritti civili dell'abeas corpus, ovvero del non essere sottoposti a misure detentive prima di una condanna definitiva, che in Italia invece è assolutamente abusato, non rispettato, con una violazione dei principi giuridici e di civiltà tipici dell'Occidente. E subito le dichiarazioni di Napolitano rispetto a un problema grave, rispetto a un problema di diritto e di civiltà, sono state frutto di polemiche. Polemiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle che ancora una volta non ha perso l'occasione per una grave gaffe costituzionale e istituzionale. Il Movimento 5 Stelle che tutti i giorni è in piazza ad urlare e difendere la Costituzione più bella del mondo, poi dimostra che la sua classe parlamentare con le sue dichiarazioni la Costituzione non la conosce. Perché? Perché si è accusato Napolitano di offrire un salvacondotto a Berlusconi con l'amnistia. Tutto questo non è vero, per il semplice fatto che le leggi di amnistia e di indulto devono essere votate dal Parlamento con una maggioranza di due terzi, sia nella totalità della legge, sia articolo per articolo. Questo significa che Senato e Camera devono votare con maggioranza di due terzi queste leggi, cosa che oggettivamente è impossibile nel caso del reato che riguarda Silvio Berlusconi. Primo perché i reati tributari non sono mai stati oggetto di amnistia. Secondo perché non ci sarà mai una maggioranza di due terzi in Parlamento che inserisca quei reati tra quelli previsti per l'amnistia, proprio perché è presente il Movimento 5 Stelle, perché c'è il Partito Democratico, perché c'è SEL, perché c'è Scelta Civica. Quindi le dichiarazioni sono un attacco gratuito da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti di Napolitano chi ha semplicemente inviato un messaggio, espresso una sensibilità e indicato una via per risolvere una situazione grave che non può essere risolta al momento per problemi di finanza pubblica con la costruzione di nuove carceri, perché non c'è più tempo, perché l'Italia è costretta a pagare le condanne da parte delle istituzioni europee per queste situazioni che sono situazioni di illegalità e situazioni di criminalità in cui lo Stato italiano versa nei confronti dei propri cittadini, detenuti compresi, e che è stata sfruttata beceramente da parte del Movimento 5 Stelle per alzare una polemica contro il Capo dello Stato speculando sulla pelle dei detenuti, fregandosene sostanzialmente di una situazione davvero penosa e davvero pericolosa per il Paese anche in termini di prevenzione criminale, preferendo come al solito una polemica che sa di pressappochismo, che sa di gaff istituzionale, che sa di scarsa conoscenza dei meccanismi istituzionali e ovviamente di forte impreparazione da parte della propria classe parlamentare. E quindi dovremmo tutti cogliere l'occasione per studiare un po' meglio della Costituzione prima di difendere e soprattutto capire i problemi forse prima di porsi su un piedistallo dal quale...